Ciao a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars E oggi, come avrete letto dal titolo, vedremo le 5 cose che saranno e che dovrebbero essere aggiunte per renderlo un gioco ancora più bello Lasciate un pollucione in su fin da subito per prossimi video di questo genere Magari possiamo fare altre 5 cose da aggiungere su Brawl Stars E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e abilitate la campanellina per non perdervi nessun video di Brawl Stars E vi do un consiglio, fatevi un giro sulla sezione community del mio canale Quindi basta cercare Kadosan su Youtube e poi andare nella sezione community Perché sabato alle ore 16 ci sarà un torneo di Brawl Stars organizzato da me E nella sezione community ho scritto tutti i dettagli Quindi affrettatevi Detto questo ragazzoli io direi di partire con questa top Allora, secondo me molte di queste cose saranno aggiunte almeno il 70% di queste cose Ma per adesso sono delle idee che spero la Supercell prenda in considerazione Infatti molte delle cose aggiunte su Brawl Stars sono state frutto del consiglio della community Quindi consigli dei fan, anche molte mappe sul gioco Se andate nelle informazioni della mappa sta scritto proprio che sono state create dagli utenti Quindi vuol dire che la Supercell ci prende in considerazione Allora, partiamo con la prima idea Anche la meno importante se possiamo dirlo Ovvero le skin della preview per quanto riguarda i nostri personaggi Ad esempio, con Corvo di qua da una parte abbiamo la sezione delle statistiche come ce l'abbiamo adesso E dall'altra abbiamo una sezione delle skin E appunto possiamo scegliere le nostre skin Quindi quale skin utilizzare E avremo anche la nostra preview Quindi se iniziamo una partita con un'altra skin A inizio gioco quando compaiono le schermate Ci sarà proprio il personaggino con la skin selezionata Sarebbe una cosa in più che invoglierebbe ancora di più gli utenti a shoppare Ma questi sono dettagli Quindi tolta questa qui da mezzo Che se la vogliono mettere la mettono Alla fine è una cosa in più che non va a modificare tantissimo il gioco Parliamo dei nuovi brawler Infatti a metà febbraio sarà aggiunto un nuovo brawler Da quel che ho capito mitico ragazzi Ovvero Eugenio il genio Di qua vi comparirà la schermata Però sicuramente saranno aggiunti tantissimi altri brawler Come è capitato su Clash Royale con le varie carte E di qua ragazzoli vi ho portato idee per due brawler Che potrebbero essere anche di rarità diversa Ci possono essere anche altre rarità Come quelle lì divine Che potrebbero stare tra le mitiche e le leggendarie Oppure ancora più forti delle leggendarie E adesso vi porterò due esempi di brawler Allora partiamo con il primo Che è stato creato ovviamente da un utente E si chiama Trixie Adesso vi leggerò tutti i vari dettagli Allora il suo attacco Lancia un boomerang Che infligge danni ai lottatori nemici Il boomerang torna rapidamente Pronto ad essere lanciato di nuovo Mi piace tantissimo questa idea La super Un gigantesco boomerang Viene gettato via per distruggere Ostacoli e muri Oltre a infliggere danni ingenti Ai combattenti nemici Quindi raga il suo attacco normale Sono dei boomerang E la sua super lancia un mega boomerang Che tipo ti sfonda un muro davanti E colpisce anche il nemico Che sta dietro il muro Sarebbe troppo P Spero l'aggiungano E infine abbiamo la star power Ovvero l'abilità stellare I boomerang che vengono lanciati Torneranno più velocemente Quindi ad esempio con l'attacco normale Il tempo del boomerang per tornare indietro Se abbiamo la star power Ci impiega meno tempo GG per questo brawler Di nome Trixie Ma adesso passiamo all'idea Di un altro brawler Il suo nome è Chozen Ed è tipo pacifista Come sapete ci sono vari tipi Tipo tank, combattente Roba del genere E di qua abbiamo pacifista Vediamo questa idea Allora partiamo con l'attacco Che si chiama Loto combo Non so come tradurlo Allora Gli attacchi consecutivi Avranno ciascuno proprietà uniche Un singolo ricaricamento Resetta la combo Praticamente È proprio un altro concept di personaggio Come potete vedere dall'immagine Ci sono tre attacchi disponibili Quindi tre ricariche Come su tutti i brawler Ma a differenza degli altri brawler Ogni attacco Ha una sua particolarità Quindi sarebbe davvero Proprio la svolta Per Brawl Stars Passiamo a leggere Adesso la super Che si chiama Palma Sacra Chozen scatenerà Un devastante colpo di palma Vi immaginate proprio Con la sua palma E lui sarebbe un pacifista Va bene Sul terreno Che fa sì Che la terra si sposti Lasciando un muro nativo Nel suo terremoto Mamma mia Abilità stellare L'esecuzione di una combo di loto Quindi l'attacco normale Completo Quindi i nostri tre attacchi Consentiti con l'attacco normale Ti consentirà di collegare Il danno bonus sacro Che infligge Ok quindi praticamente Una volta completati I tre attacchi base Perché appunto Questo brawler ha tre attacchi Avremo un bonus Quindi che ci farà fare Più danno Troppo forte E questo qui Visto che è una nuova tipologia Potrebbe essere Una nuova tipologia Di brawler Perché non è una cosa ufficiale Per adesso Potrebbe avere una sua rarità Tipo una rarità divina Non so Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Passiamo adesso Alla terza idea Ovvero Dei nuovi box Che al 100% Saranno aggiunti Raga siamo partiti Con Clash Royale Che avevamo solamente Il baule magico All'inizio Poi si è passati Al baule super magico Leggendario Epico Davvero un botto Di bauli Sono stati aggiunti Quindi figuratevi Se su Brawl Stars Ne avremo Ne avremo solamente tre E qui vi mostrerò Uno screen Di esempio Un baule Leggendario Un box Leggendario Ovviamente L'immagine è fittizia Però potrebbe essere Comunque un'idea Mettere tipo Un box leggendario Che ci fa trovare Solamente un brawler Leggendario Metto le mani avanti Non saprei dirvi Infatti sarebbe carina L'idea di creare Un box Per qualsiasi tipo Di brawler Ad esempio Box mitico Trovi un brawler Mitico Box leggendario Trovi un brawler Leggendario Beh Sarebbe carina Ma adesso Passiamo Alla quarta E quindi penultima Idea Ovvero I tornei E le guerre Tra clan Anche queste qui Per me Saranno aggiunte Molto probabilmente Infatti le abbiamo Su clash of clans Sono stati aggiunti Anche su clash royal E su brawl stars Raga ci vogliono D'obbligo Non dico tanto Le guerre tra clan Che magari potrebbero Aggiungerle Più in là Visto che è appena Uscito il gioco Quindi Facciamo respirare Gli sviluppatori Ma i tornei Sarebbero davvero carini Quindi una sezione A parte Come potete vedere Da questa foto Solamente Dedicata ai tornei In cui si possono vincere Fantastici premi In sostanza Come le sfide Le challenge Che troviamo Su clash royale Quindi che si devono Raggiungere 12 vittorie 9 vittorie E riceverai Qualche premio Non so E per entrare Ovviamente Bisogna utilizzare Delle gemme Anche questa idea Ci sta Ditemi la vostra Qui sotto nei commenti Se potrebbe raggiungere Una cosa del genere E adesso Passiamo All'ultima idea Questa qui Davvero Molto carina Infatti Ci sono le skin E sono state apprezzate Davvero tantissimo Dagli utenti Ma raga Vi immaginate I balletti Su brawl stars Su fortnite Hanno spaccato Tantissimo Oltre alle skin I balletti Su fortnite Sono andati Davvero una bomba Ma vi immaginate Su brawl stars Tipo tu Uccidi L'avversario E al posto Di trottorellare Quindi girare Per insultarlo Inizia a ballare E ti diverti Davvero tantissimo Oppure utilizzarli Tipo nel menu principale Inizia a ballare A fare le spaccate E fai ciò che vuoi Ovviamente Si potranno acquistare In game Con le gemme L'oro Oppure i soldi reali Però anche questa qui Mi piace come idea Quindi ragazzoli Ditemi la vostra Qui sotto Nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Di queste idee Consigliatemi Anche altre idee Così da farci Una seconda parte Quindi altre cinque cose Che aggiungeranno Su brawl stars Fatemi sapere Quale secondo voi Introdurranno Nel gioco E spero Che la supercell In qualche modo Riesca a vedere Questo video Lasciate un pollicione In su Iscrivetevi al canale Abilitando la campanellina Per non perdervi Nuovi video Di brawl stars E vado a salutare Tre di voi Che hanno condiviso Un mio video Su whatsapp E poi Mi hanno inviato Lo screen Su instagram Per verificare Quindi saluto Darkpantom Rocco E Giuseppe Quindi qui sotto Trovate il mio nome Di instagram Passate a seguirmi E qui da Casosan È tutto E noi Ci rivediamo Ad un prossimo video Ciao Ciao